Le facce delle buone abitudini. Volti noti dello spettacolo ai cittadini comuni sono i protagonisti della seconda edizione della campagna di comunicazione sociale del Consiglio regionale del Piemonte. Contagioti di benessere è stata presentata venerdì 29 giugno nei locali Off Topic, il nuovo hub culturale di Torino dedicato ai giovani. La seconda edizione della campagna social Contagioti di benessere in cui il Consiglio regionale vuole cercare di portare in tutto il Piemonte il messaggio che bisogna vivere bene, bisogna vivere in salute perché questo ci aiuta. Ci sono delle piccole buone abitudini quotidiane che non costano nulla ma fanno stare meglio. La pratica di benessere quotidiana è bere un sacco di acqua al giorno. Ho iniziato perché da cantante mi hanno consigliato per le corde vocali di idratarle molto e poi ho scoperto che effettivamente mi faceva bene. Bevo un sacco di acqua, cammino tantissimo, faccio sport, non bevo, non fumo, non dico le parolacce. Ai giovani che vogliono venire Off Topic io consiglio di venire in bici perché siamo vicini alla Dora, siamo vicini al Camposinaudi, c'è un sacco di verde e d'estate è anche piacevole usare la bicicletta. Il consiglio dopo aver passato tante ore davanti al computer di semplicemente alzarsi 5 minuti e farsi una passeggiata. Io per esempio quando scrivo le canzoni le scrivo camminando perché secondo me il cervello è come se si muovesse insieme ai miei piedi, è una cosa strana. Però se voi studiate camminando al parco potrebbe essere una buona abitudine. Io cerco di tenermi in forma, vado a correre due volte alla settimana almeno 10 km per due volte alla settimana, mi accorgo di stare meglio fisicamente ma anche e soprattutto mentalmente perché è anche un ottimo antristress.